E' uno storico via libera l'indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero caseari che pone fine all'inganno del falso made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro stranieri. L'obbligo di indicare l'origine in etichetta salva dall'omologazione l'identità di ben 487 tipi diversi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati in quanto realizzati secondo regole tramandate da generazioni. Questo è il commento del presidente Ligure di Coldiretti Gerolamo Calleri al decreto sull'obbligo di indicazione dell'origine del latte in etichetta fortemente sostenuto dalla stessa Coldiretti. Le novità prevedono anche l'indicazione di origine del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari e l'utilizzo in etichetta delle indicazioni del paese di mungitura e del paese di condizionamento o trasformazione. Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso anno da Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando a un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori. 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore e capre possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro, formaggi e yogurt.